Chiude provvisoriamente a Barletta la circolazione del sottovia realizzato tra Via Trani e l'ex complanare Anas per consentire i lavori necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità dopo l'incidente del 22 febbraio scorso. Un'ordinanza dirigenziale del settore lavori pubblici ha disposto con effetto immediato la sospensione temporanea della circolazione nel tratto stradale di nuova realizzazione da Via Trani sino alla prima rotatoria. Un'apposita segnaletica regola il divieto di transito e le direzioni obbligatorie sino al completo ripristino delle opere stradali danneggiate. L'amministrazione comunale si scusa anticipatamente con i cittadini per i disagi che potrebbero derivarne.